Fattute finali di questa alternanza scuola lavoro, ragazzi com'è andata? E' andata un po' bene, ogni giorno abbiamo avuto un'esperienza diversa, qualcuno l'ha intervistato e altri poi gli ha scritto E' stata un'esperienza molto utile soprattutto per sviluppare un senso di improvvisazione Anche perché ci trovavamo dinanzi a soggetti che la conosciamo e quindi è stato molto utile per filmare E avete conosciuto il territorio, persone, vi aspettavate che il giornale era così complesso, tutte queste cose? Io un po' sì Ivan, tanti auguri a te e il tuo compleanno Allora, dobbiamo ringraziare Ivan perché ci ha fatto anche entrare nel mondo di Telegram Il canale è nato grazie a lui, che ne pensi di questa esperienza Ivan? Ma è un'esperienza sicuramente costruttiva che potrei dire una strada di azione Perciò la parla di tutti i mondi sicuramente Quindi sei stato contento di questa cosa compositano news? Grazie Ivan, allora noi speriamo sempre di avervi con noi, eh ragazzi Ciao